Viene. 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 Vamos. Alla praia. Dai attacchiamo la 6 dai. Che bello quando dici così. Allora qui attenzione ai ballotti perché li chiamano proprio in piedi e aspettate l'assezionamento. Esatto perché almeno non arrivo addosso cioè aspetti che lui arrivi all'altro. Sento che io ho già schiacciato le mani aperto un bel po' di volte. Carabiner. Ma cosa vuol dire carabiner? Fucile. Fucile esatto. Carabina. Viene su con un con una carabina. Fucile esatto. Vabbè dai qua agganciamoci. Fucile esatto. Fucile esatto. Ficca se siete brutti oh. Ficca se siete brutti oh. Vieni a che te metti la peggiaia. Quello. Adesso me lo sai cadendo. Paolino. Tu sei dove ti mando? Nel paese. A telefonare al Papa? A quel paese in provincia di parculo. I pompieri fa ora non ne ha. I pompieri. Come fa le pompe? Regatto. Oh no, hanno ucciso Kenny. Bastardi. Sì, quello c'era anche l'altra volta. Un fantastico chiodo mobile. Cosa? Chiodo mobile. Ma no, ma è uno di scorta, è lì di scorta. Se vedi che si stacca lo pianti dentro. Bene. Qua sotto c'è la forra. Oggi pomeriggio andremo a visionare. non è un problema, amico bello. Io scuvo il sassolino. E' un problema. E' un problema, amico bello. Ciao Mauro. Ciao Albi. Ciao. Hai visto che bella? Hai visto che è Valverde? È Valverde? È Valverde, sì. Sì. Tra la 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 la. Una mossa di questo tipo. Occhio eh. Atenzione, magari qualche sassolino qui. Sì o canzone? Sì. Faccio il tuo dico di netto. Hai trovato la casa di chiodi. Eh? Hai trovato la casa di chiodi. Hacciamo buco qua. quello è l'unico pezzo leggermente difficile guarda hai visto come ho fatto io e praticamente il piede destro l'ho buttato lì sotto il chiodo vedrai che c'è un bel spazio per mettere il piede poi ti attacchi al cavo butti sul sinistro buttalo su ancora ma attaccati il cavo tranquillo in teoria non si stacca butta esatto butti su quello sei a posto butta sul destro yeah perfetto tutte queste giunte che spalle allora ok si sono un po' più comodo no hopla ciao davide ciao man parla come mani ok così mi piace aspetta eh nooo oh rocca ah lì chiaramente è sopra ne si il moschettone si non è sopra perché se cade così devi far girare la punta non succede però dai devo essere sicuro aspetta eh ok e se proprio vogliamo fare i figli un moschettone al contrario all'altro aspetta se vogliamo se no fa qualche peccato ah 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 ma hai visto ho detto che non era come quello dei fiori non grazie mille grande davide il 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 Grazie a tutti.